Buongiorno, date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio. Questo che conosciamo come ormai un proverbio nella nostra società, nella nostra cultura, è piuttosto un insegnamento altissimo che Gesù dà rispondendo a coloro che lo vogliono mettere alla prova, i scribi e i farisei, i capi del popolo. Siamo nel capitolo 12 di Marco, versetti dal 13 al 17, ed è di fronte alla domanda di questi uomini che lo interpellano sulla opportunità o meno di pagare le tasse all'oppressore romano che Gesù ci riporta all'essenza della nostra esistenza. Facendosi mostrare una moneta che porta in pressa l'affigie dell'imperatore, Gesù dice di restituire a lui quello che lui ha dato. Ed è questione proprio di riconoscere di chi è la proprietà di quello che si ha in mano, o meglio ancora, di quello che si è. Perché se le monete sono dell'imperatore, se le tasse vanno pagate per il bene comune, se è giusto rispettare l'ordinamento sociale anche quando costa, e questo non significa cedere all'ingiustizia, ma piuttosto promuovere il bene comune, è ancora più importante restituire a Dio ciò che lui ci ha dato, e cioè la nostra stessa persona. Nel nostro cuore ci insegnava Sant'Agostino e impressa l'affigie di Dio stesso. Noi siamo fatti a sua immagine e somiglianza, e allora è il nostro cuore che dobbiamo restituire a Dio. Cioè le nostre scelte quotidiane, i nostri criteri per prendere delle decisioni, le nostre opzioni, sono tutte radicate nella presenza di Dio in noi. Vivere come se Dio non ci fosse significa dunque vivere come se noi non avessimo la capacità di Dio, significa tradire la verità di noi stessi. Vivere come se Dio non ci fosse, o mettendolo da parte nella nostra quotidianità, significa non restituire nemmeno a noi stessi la possibilità di esprimere al massimo le nostre potenzialità. Siamo fatti a immagine e somiglianza di Dio. Vuol dire che siamo fatti per orizzonti infiniti. Vuol dire che questa terra, questo tempo, questo mondo, non può limitare le nostre opportunità di vita. Il passaggio per questa terra è un'apertura a un'eternità che non ha fine. Potremmo dire veramente che tutto quello che è di questo mondo, in fondo, è come una quantità di spiccioli, davanti all'eredità, al patrimonio più grande che abbiamo, quell'infinita potenzialità di amore e di gioia che abita il nostro cuore e che si esprime e si realizza pienamente, solo tornando alla fonte. È come se l'acqua, in fondo, una volta che è fatta scorrere lungo le sorgenti di questa vita, arriva a un mare che le restituisce la freschezza e il rigoglio della sorgente da cui è iniziata. Viviamo allora questa giornata restituendo a Dio quello che gli appartiene, il nostro cuore, la nostra vita. Ne avremo in cambio qualcosa che vale molto di più di un patrimonio di questa terra e cioè l'eredità della gioia che non ha fine. Buona giornata.